Ciao a tutti ragazzi del mio archivio benvenuti in questo nuovissimo video oggi potete vedere siamo su Jurassic World Evolution 2 e oggi si parlerà di una nuova chiamiamola meccanica che è aggiunto nel gioco ovvero le cicatrici se noi andiamo a selezionare questo caro sugo mimo come potete vedere qui sta scritto che ha una cicatrice infatti come potete vedere sul suo corpo ci sono queste ferite che non si sono rimarginate appunto come funziona questo fatto ogni volta che i nostri neosauri a quanto pare combatteranno loro riceveranno diciamo queste cicatrici e come se hanno subito delle ferite gravi o delle ferite anche non gravi che possono essere curate direttamente con la cosa dei veterinari qui loro comunque avranno una percentuale di ricevere queste cicatrici adesso lo vedremo per bene perché rilasceremo un bel megalosauro che adesso devo pure com'è l'animazione di uscita eccolo qua belle gente eccoli qua che combattono vedremo pure l'animazione di combattimento ci vuoi andare in modalità cattura direi yes mettiamo in pausa fermo apprezziamo per bene G prendiamo la pausa qua vediamo ok ed eccoli che iniziano a combattere il megalosauro fa il suo primo attacco adesso però rilancia eccolo qui vediamo se faranno un combattimento duello letale oppure solo che si picchiano un po' tutto potrebbe essere ok e adesso quindi finito il combattimento il sugo ha perso e come potete vedere a parte che c'è salute bassa c'è pure una malattia non diagnosticata adesso andiamo a mandare i nostri veterinari qui dovrebbero andarlo a curare ma se non andiamo a prendere su di lui in teoria dovrebbe essere uscito un'altra cicatrice infatti come potete vedere adesso ce ne ha due ora voi vi chiederete ma questa cosa che svantaggio vantaggi ci dà per il nostro dinosauro? da quel che ho visto a quanto pare man mano che il nostro dinodino ha diciamo le cicatrici potrebbe aumentare il livello di notorietà perché per esempio adesso è aumentato a 1 prima era a 0 e potrebbe anche diminuire però il prezzo del valore di vendita attuale perché prima era leggermente più in alto e adesso è sceso ecco appunto a parte che questo adesso c'è un tramo interno però non ci pensiamo ecco signori è così quindi che funzionano le cicatrici non so bene quante cicatrici possono avere un dinosauro poi lo approfondiremo più avanti e vi farò sapere bene gente questo era tutto per oggi ci vediamo come sempre ad un prossimo video ciao ciao sugo che beve che bella l'animazione di bevuta che c'hai ciao